Oggi in Camera di Commercio di Taranto iniziamo due giorni di eventi nell'ambito di Italian Internet Day e il compleanno della prima connessione internet che avvenne 30 anni fa dal CNR di Pisa. Abbiamo pensato di dedicarlo a diversi soggetti, alla comunità digitale che stiamo cercando di animare in questi ultimi anni sul nostro territorio. Oggi pomeriggio passiamo queste due ore con i ragazzi delle scuole ma anche con le imprese in un workshop, ma forse meglio chiamarlo un talk, su una serie di tematiche. Abbiamo intitolato la giornata Open Innovation e comunità digitali, scuole e imprese in Camera di Commercio. Siamo anche patrocinati dall'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Taranto che ringraziamo. Vogliamo affrontare diversi temi e lo facciamo con la task force della digitalizzazione della Camera di Commercio di Taranto, Arse Digitalia, Simone Intermite, Michele Leone e Barbara Saltalamacchia, coordinata da me, che sta cercando di sensibilizzare il territorio sulle competenze digitali, assistendo anche le imprese e i giovani in questo percorso che ormai è dovuto. Lo facciamo con gli amici di SOS, la scuola Open Source, Alberto De Leo ma anche Alessandro Tartaglia che non ci ha potuto raggiungere ma che è felicissimo di presentare anche qui su Taranto questo suo innovativo progetto molto disruptive. Con Vincenzo Patruno che già abbiamo avuto qui con noi per Open Data Day, parliamo di Open Data con gli amici di Open Puglia e con il nostro amico di Infocamere Franco-Rossa che ci esporrà un po' i servizi alle imprese che il sistema camerale rende ai sistemi produttivi locali da tanti di quegli anni che forse siamo nati anche con la prima connessione di internet. Ricordiamo sempre che nel 74 il professor Volpato che era docente di calcolo all'università a Padova ed era anche presidente della Camera di Commercio di Padova pensò per primo di rendere digitali gli atti delle Camere di Commercio. Nacque Cerved, da Cerved poi Infocamere e la società informatica consortile delle Camere di Commercio italiane che rende tutti i servizi informatici alle imprese sui territori e che ha ovviamente il suo core business e il fiorell'occhiello nel registro delle imprese, registro unico e telematico con il quale si comunica ormai da qualche anno in maniera esclusivamente telematica e non tutte le pubbliche amministrazioni si comportano così. Diciamo che le Camere di Commercio sono fra le prime che hanno colto questa opportunità di internet e poi della telematica e della digitalizzazione. Su questo siamo molto impegnati, dicevo che parleremo di eccellenza in digitale, un progetto che noi facciamo ormai da due anni e che è mirato alla sensibilizzazione del sistema imprenditoriale locale sulla opportunità delle competenze digitali, con Crescere in Digitale, che è un altro progetto che abbiamo fatto quest'anno con il Ministero del Lavoro, Union Camera e Google e che ci ha consentito già oggi, ma non è terminato, di iniziare dieci tirocini per giovani disoccupati in dieci imprese del territorio, i famosi NIT che assistiti da garanzia giovani potranno per sei mesi a costo zero per le imprese trasferire le competenze digitali che hanno acquisito nell'ambito di questo progetto patrocinato anche da Google nelle imprese e al contempo imparare a lavorare. Parliamo poi anche di Arse Digitalia, l'ho già detto, è il nostro ultimo progetto, apriremo uno sportello già informalmente aperto per assistere le imprese su questi temi, ma una cosa che mi premeva sottolineare per questo pomeriggio è che stiamo già operando come Arse Digitalia con una ventina di ragazzi di una scuola del nostro territorio che stanno acquisendo competenze digitali finalizzate all'attività di impresa e che oggi utilizziamo in questo pomeriggio come Temporary Social Media Team, quindi faranno tutta l'attività di live tweeting, di dirette Facebook e animeranno virtualmente questo pomeriggio. Domani, sabato, 30 invece, focus con CNA Taranto e patrocinato dall'Ordine degli Architetti di Taranto che ha concesso anche i crediti formativi sulla stampa 3D. Un altro tema che ormai affrontiamo da tre anni con Arduino Day, quest'anno Genuino Day, che ci interessa molto perché è quello che abbiamo definito l'evoluzione democratica dell'impresa con i dati, materia prima ecosostenibile per un nuovo manifatturiero sul nostro territorio. Ecco, focalizziamo su questo tema con grandi esperti, esposizione e dimostrazioni pratiche. È aperto a tutti, dalle scuole alle imprese, agli stessi maker e anche alle istituzioni che vorranno vedere, come dire, come cogliere le nuove tendenze dell'economia provinciale. C'è tanto movimento su questa tematica e abbiamo pensato come Camera di Commercio che fosse necessario proseguire e approfondire ulteriormente questo argomento. Oggi sono finiti, adesso sono finitata. Ultimamente Google ha cambiato anche l'algoritmo per far sì che i siti mobile responsi... Oggi parlerò dell'artigianato digitale e della stampa 3D. In pratica l'artigiano digitale è colui che ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Per quanto mi riguarda, quindi rappresentante della CNA, auspicherei che ogni azienda avresse un maker all'interno. Non a caso in questa occasione, che si parla anche di vivere in digitale, di eccellere in digitale, di formarsi in digitale, ci sono dei ragazzi che stanno facendo, attraverso garanzia giovani, del tirocino formativo in azienda. Avere dei makers in ogni azienda significa portare innovazione, portare sviluppo e chiaramente creare lavoro. Questo è l'auspicio che io mi propongo come CNA Taranto in questa città di Taranto. È chiaro che la stampa 3D ha una filiera produttiva che potrebbe assorbire queste competenze, ma soprattutto offrire poi questi risultati di questo insieme di vulcanizzazione delle conoscenze, delle competenze alle imprese. Quindi avremmo un circuito veramente vigoroso, un circuito che può portare a qualcosa di diverso. Per questo però dobbiamo essere pronti al cambiamento, pronti in alcuni casi anche a perdere il lavoro, in senso che alcuni lavori artigianali, in senso molto tipico, potranno magari scomparire oppure essere avvicinati o rivoluzionati da questi makers. Quindi il concetto è abbastanza ampio, però cito la frase che mi è rimasta impressa, come dicevo anche sul comunicato, che è più si allarghi il cerchio della conoscenza, più si allunga il raggio dell'ignoranza. In che senso? Nel senso che siamo consapevoli che la conoscenza con questo mondo che condivide tramite internet appunto, che condivide aumenta. aumentando la conoscenza abbiamo tutti più la responsabilità di informarci di più, di studiare, di essere consapevoli di questo mondo che cambia.